guerrieri guerriere buongiorno oggi angolo delle curiosità che diavolo sono quei corsi militari law enforcement SWAT e chi più ne ha più ne metta che di cui si sente parlare tra le specializzazioni del Krav Maga state per scoprirlo in verità la questione è molto semplice nessuna federazione seria crea in due settimane ma nemmeno tre settimane degli istruttori che sono in grado di fare il lavoro di uno specialista delle forze dell'ordine o delle forze armate questo perché perché in verità richiedono mesi e mesi di addestramento è un background specifico per poter affrontare quello che di fatto è una specializzazione nel loro ruolo è in verità la questione molto semplice che cos'è che si fa in questi corsi quello che si fa è preparare un istruttore già formato nel Krav Maga e con un determinato livello per poter accedere a questo corso a comprendere quali sono gli elementi su cui lavorano gli specialisti delle forze dell'ordine o gli specialisti delle forze armate in modo tale da potersi connettere con maggiore facilità e poter dare la parte di Krav Maga che magari a quest'unità serve sempre nel rispetto dei rispettivi ruoli quindi nessun istruttore di Krav Maga si trasforma in Rambo facendo questi corsi nessun istruttore di Krav Maga diventa un super poliziotto semplicemente viene addestrato a comprendere quali sono le vere necessità operative di un determinato gruppo e a parlare la stessa lingua o quantomeno a comprenderla e questo è tutto vi aspettavate altro? beh no un civile deve fare il civile a ognuno il suo vorrei chiudere con una battuta ma in verità la battuta più grande è chi si freggia di questi corsi e si pavoneggia come se fosse diventato parte dei corpi speciali o chissà che non 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 è